A tutti voi, figli miei, io chiedo perdono. Il razzo di pirata è di uno a cui non interessa il tesoro. Di un po' si può sapere cosa cerchi. Mi spieghi perché lo chiamate tutti papà? Certo, te lo dico subito. Perché lui ci considera tutti i suoi figli. Se vuoi continuare a seminare il terrore in questi mari alleati a me, proseguirai le tue scorribande. Suo coraggio diventa mio figlio. Suo padre è il re dei pirati. Sto parlando di Goldroth. Ancora un po' di pazienza. Sì. Sì. No! 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 Io sono solo ciò che resta di un'epoca che ormai non c'è più. Non esiste una nave che possa accogliermi nella nuova era che è appena cominciata. Dovete sapere che One Piece esiste! Nessun indugio! Andate di mie! We are warriors standing on this town From the sky. Grazie a tutti